Ciao a tutti ragazzi sono la Rai e oggi siamo giocati in un senso di riscaldamento che mi avete detto che vi piace molto e iscrivetevi al canale che siamo quasi se vabbè i 40 ho già gli stati iscritti tra poche arriviamo i 100 cosa ho aspettato allora ammazziamo qui e non è successa capace da curativo allora e se vabbè e se vabbè allora mo salto e li chimo no 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 l'avevo utilizzato in pompa per killarlo invece ho utilizzato il cestino no no ti ho fatto 106 ok ok allora mi hanno distrutto mi hanno distrutto ragà no qui no 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 dai che forse lei la fia 220 ammazzato calmando come non so cosa ok la potevo ammazzare a piccone ma era voluta dai ma non lo so non lo so mi ha fatto 40k non lo so non lo so allora anche un po' si ma si ma è la mia arma quasi preferita non lo so 48k ho fatto e raga non sto fallendo molto perché non lo so 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 ma mi prendo l'arco e con l'arco sono molto bravo che bella eccolo la no a posto è il pump dai l'avevo preso dai l'avevo preso l'arco dai ma io avevo preso l'arco ok raga ho preso l'arco perfetto l'arco 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 credo che io non faccio mai, ma non c'è l'esercito allora... poi non mi spero invece... invece non posso volare ancora 35 di vita no quello là... vabbè almeno... sono morto per la quarta volta no che quarta volta? per la quarta volta ma... una bomba e mi hanno risultato bene no allora non 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 RIP Adesso iniziamo il round Raga ci prepariamo Dai prepariamoci Tra 47 secondi Una nuova partita Dai raga però Allora iscrivetevi al canale Dai siamo quasi di 100 iscritti Siamo quasi di 100 iscritti Aspettate iscrivetevi tutti Ai 100 iscritti potrei regalare Non 1000 vivac ma 2000 vivac a uno di voi Però dipende se arriviamo ai 100 iscritti Non 1000 vivac ho già regalato Avevo già regalato 1000 vivac a un fan Dato che si è dato per i 70 iscritti Solo che adesso dobbiamo arrivare al 100 E non vi darò 1000 vivac Ma che 1000 vivac? Venendo 2000 vivac sono tanti Lo ammetto Sto dicendo che fanno schifo Ma sono molto meglio Molti più vivac Allora ma quanto vorrei pulare questa zucca? Allora Non mi piace questo codice creatore Adesso lo cambiamo e metto E metto cut Cut Supporta creatore? Non supporto quello Allora Allora GKK Mi preparo già con le armi Allora Allora No Però sono secondo Nella classifica No Sì ma mi stanno distruggendo Va bene che il gioco è questo Le persone Ma Ma così è troppo E mi stanno distruggendo Bene Molto bene Malissimo Eh Sì vabbè Mi distruggono Così Adesso sapete cosa faccio Ma guarda Quanto sono Flaming Flaming Dai Torno Spammando Come una sola cosa Eccola La mia Flaming È muoio Però Se volete Finitare Vabbè Almeno Scamma La mia allora ragazzi non so che posso prendere una scuola allora non prendo a scuola no lo volevo fare di piccola mancilla non o o o o o o Oh Allora Allora Sono morto Ragazzi Non sto parlando Sto parlando Perché Perché sono confusa Mi hanno Discritto A questo cavolo Di strudello Muori Ma è vero E vabbè Mi ha picconato Ragazzi Avevo quattro Di vita Ragazzi Fatevi 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 Se non avete Visto nulla C'avevo Che stiamo Vita E mi ammazzano Allora Allora Ragazzi Sto facendo Sto facendo schifo In questa live Però sono Sono una Sono la Quattro Sto facendo schifo Sto facendo schifo Perché adesso morirò Quando ti faccio schifo Sono uno dei più Forchi Mi ha spalmato Mi ha spalmato Malissimo Io però Sto facendo schifo 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 Ok Sto facendo schifo Ma Raga Cos'è sta roba Ma Raga Non lo sapevo Raga Abbiamo scoperto Un posto segreto Bene raga Così ma Se sto posto Ci dà le atti Vi sfruggiamo tutti Raga È molto sasso Dai Trattare Sono curioso E mi sapevo C'è l'altro Ma se clicca e interagi No Non lo sapevo Ok raga Perfetto Sì No vabbè Non ci dà le schifo Ma cosa dobbiamo fare Ce ne sono andati via tutti Vabbè Vabbè raga Non importa L'importante L'importante Che E non traiardiamo Eh Mi hanno disbrutto Mi hanno disbrutto Ma ci avevo No Mi ha disbrutto 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 no 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 però faccio schifo insomma un po' secondo me per me prendiamo l'altro è illegale il parto è un pochino illegale perché fa tanto danno in più c'è anche la pizzo non la dove ha bisogno non 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 c'è anche una fattiglia di loris e quando entra un boom vediamo se entro qualcun altro è fermato facciamo altro video il pilota è fermato non so allora non so non so non so non poterò mai il segno non poterò mai il segno allora la mato allora sotto kill 54 e 24 mi fate mato 5 kill attivo troppo kill le raga mancano eh sono andate così tanto stai gustando forte raga perchè c'è mi scoperto e muovono Ok, 2-1 1-2 Ok Ragazzi, spero che vogliono Spero che la linea vi chassi al città